Per delega del procuratore distrettuale di Napoli si comunica che il personale della polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo dei reati di usura, estorsione e tentata rapina aggravati dal cosiddetto metodo mafioso. In particolare dall'attività di indagine esperita dagli agenti della squadra mobile di Napoli del commissariato di Torre Annunziata sarebbe emerso un rapporto di tipo usurario in danno delle vittime, il ricorso ad una serie di violenze poste in essere nei confronti di queste per ottenere il pagamento degli interessi usurari, il tentativo di rapina del telefono cellulare di una delle vittime. Gli illeciti sarebbero stati realizzati suscitando nelle persone offese uno stato di terrore, essendo stato evocato il potere criminale dell'organizzazione camoristica conosciuta come Clan Gionta, operante sul territorio di Torre Annunziata. Il provvedimento è eseguito una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.